saguaro numero 24 il killer eravamo rimasti quello che non capisco è perché non ne abbiamo mai saputo niente solo i dirigenti non sono informati il bureau ha deciso di tenere nascosta la cosa per quanto possibile modo da non creare clamore mediatico bene se non l'avesse fatto forse il nipote di ostend beer grace si sarebbe insospettito e ci avrebbe chiamato permettendoci di arrestare quel pazzo mi spiace ma non è stata una mia decisione comunque il nostro killer è in grado di fiuttare le trappole sembra non avere alcuna fretta di agire però dicevi che procede ciclicamente si ma i suoi periodi di inattività sono sempre piuttosto lunghi e imprevedibili il vero problema è che in molti casi colpisce anche più volte nello stesso stato prima di decidersi a sparire di nuovo nel nulla periferia di fenix arizona tump 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 fbi aprite immediatamente ancora niente no signora il mandato eccolo diamo inizio alle danze vai zbarang tump 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 libero 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 signora il professor landau suppongo il professor landau suppongo dell'estate che all' Randy è dell'estate che e attragg il presidente